Good morning a tutti voi e buona giornata, buona festa, buona solennità di tutti i santi. La pagina di oggi, quella di questa liturgia, è una pagina insomma molto conosciuta, ecco. Vedendo le folle Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Voglio soffermarmi soprattutto su questa parola, Beati, che ha a che fare con la felicità, con la gioia. E questo ci dice che nel cuore di Dio, nel cuore dell'annuncio cristiano, non c'è una via di costrizione, non c'è una via dove noi dobbiamo fare qualcosa per Dio, ecco. Ma c'è un desiderio profondo che per ognuno ci sia una strada di felicità, di gioia. E questo anche nelle situazioni più difficili da vivere. Colui che vive le beatitudini, il Beato è anzitutto Gesù. E' Lui che ha vissuto povero in spirito. E' Lui che è riuscito nel pianto ad attraversare la passione. E' Lui il mite. E' Lui il misericordioso. E' Lui il puro di cuore. E' Lui l'operatore di pace. E' Lui quello che è stato perseguitato. Insomma, guardiamo a Lui in questa festa. Ecco, i Santi chi sono? I Santi sono coloro che hanno guardato a Cristo. I Santi non sono nelle nicchie. Per molto tempo, nella nostra tradizione, i Santi hanno avuto un'importanza molto rilevante. Perché in qualche modo? Beh, perché Dio era considerato lontano. La teologia di Dio era sempre, insomma, che Dio è lontano dalla vita degli uomini, no? E in qualche modo noi dobbiamo conquistarcelo, meritarcelo. I Santi, che erano persone, insomma, che terrene, ecco loro sì, potevano darci un esempio. E quindi anche spesso la preghiera è rivolta più ai Santi che non a Dio. Per noi oggi è diverso. E credo che sia frutto di un percorso anche di cambiamento, no? Della teologia, cioè di conversione al Dio di Gesù, che è padre e madre, che è amore incondizionato. Noi abbiamo la possibilità di dare, dicevo, non so più quando, del tu a Dio. Non ci sono intermediari. Tuttavia i Santi sono delle figure importanti. Innanzitutto perché i Santi, nella prima chiesa cristiana, non erano appunto quelli del cielo, i morti, in modo esemplare, diciamo così. Ma eravamo noi, i cristiani, coloro che hanno aderito pienamente al nuovo popolo di Dio, che hanno aderito pienamente a una nuova umanità che Gesù ha trasmesso. Chi è l'uomo? L'uomo è colui che dà la vita. Chi è l'uomo? L'uomo è colui che ama. Quando tu sarai veramente tu, quando amerai fino alla fine. Chi aderisce a questo non è che è privo di limiti, di peccati, è un supereroe. No, è santo esattamente perché si lascia santificare da questa vita. Si lascia santificare da Cristo. Continua a credere in ogni circostanza, addirittura anche nel pianto, che valga la pena vivere la vita così. Coraggio, coraggio, in piedi, in piedi uomini di Cristo. Perché nulla vi può sottomettere. Perché voi siete già salvati, siete già risorti in nome del Cristo vivente. Le cose belle della giornata di ieri, ho iniziato un nuovo turno della settimana comunitaria con quelli un po' più piccoli, diciamo così, prima, seconda e superiore. E per alcuni di loro, molti di loro, è una novità. E questa è una bella cosa perché sono partiti col piede giusto, con tante aspettative. E credo che, insomma, siano partiti molto bene nell'intuire che la settimana comunitaria è una cosa seria, diciamo così. Ecco, e ci aiuta un po' a entrare ancora nelle questioni grandi della nostra vita, come anche questa settimana, appunto, i legami. Ecco, ho visto molta passione, molta attenzione, molta voglia di mettersi in gioco. E questo è molto bello, ecco. Poi, che ne so, penso invece un'altra cosa che mi è capitata ieri, che mi capita sovente, Ada, che è una nostra cara anziana, ecco, che ogni tanto mi porta, ieri mi ha portato il pane da Pietra Porzio, porta qualche regalino per i bambini. La generosità è sempre una cosa bella, no? Quando fai qualcosa di gratuito per altri. Evviva. Ale, buona festa di tutti i santi che siamo noi, coloro che aderiscono a Cristo.